Ho condiviso la mia visione personale sulla sanità nella provincia di Pesaro e Urbino con il direttivo provinciale di Forza Italia, perché credo che insieme come partito dobbiamo prendere una posizione ben definita. Noi diciamo quindi, così come del resto abbiamo deciso in consiglio regionale, no ad un unico ospedale tramite un project financing. Perché? Perché se andassimo avanti con questo tipo di iniziativa noi ipotecheremmo per i prossimi dieci anni tutte le risorse finanziarie che la regione Marche può, diciamo così, indirizzare verso la provincia di Pesaro. Di fatto realizzeremmo un'unica struttura e sfoglieremmo quasi tutto il resto del territorio da quelli che sono i servizi essenziali e necessari. Conseguentemente noi potremmo benissimo mantenere sulla provincia di Pesaro i 104 milioni che sono previsti dal Ministero per il nuovo ospedale, ma non tramite un project financing, bensì tramite un bando regionale, progetto regionale per una realizzazione di una struttura ospedaliera più moderna su Pesaro, quindi su Muraglia. Nello stesso momento una struttura non più da 600 posti, bensì da massimo 400, che possa garantire in qualche modo la redistribuzione sul resto del territorio di quelle che sono le attività necessarie per garantire una sanità più vicina ai cittadini e una prevenzione più efficace, come del resto in questo momento di Covid si sta dimostrando che sia una vera e propria esigenza e necessità. Voglio anche ribadire una cosa, quando si parlava di un unico ospedale a Marche Nord si istituì appunto l'azienda ospedaliera. Se oggi viene a cadere il fatto di un'unica sede ospedaliera tra Fano e Pesaro, ma bensì si punta a mantenere entrambi i presidi, non è più neanche un dogma, una necessità quella di mantenere due strutture, cioè l'Asor Provinciale e l'azienda ospedaliera Marche Nord. Potremmo anche pensare in prospettiva di superare queste due entità e come nelle altre province inizia a mantenere un'unica entità organizzativa in modo da snellire ulteriormente e rendere più efficace di prospettiva anche gli interventi sul fronte sanitario. Questa è un'iniziativa che ho voluto condividere, ripeto, col Partito di Forza Italia in una posizione comune che possa dare in qualche modo un indirizzo univoco alle attività legate allo sviluppo dei servizi sanitari nella provincia di Pesaro Urbino, in accordo con l'amministrazione regionale di cui ovviamente faccio parte.